bentornati signori con un nuovo video su doc and battle siamo tornati con le summon attenzione ho lì da una vita la summon dei 77 mi pare pg con 3 lr garantiti mi sembra se non sto dicendo cagate vediamo un attimo mi pare che sono 77 si 77 special summon con 3 lr garantiti ho detto giusto ho detto giusto ho ancora questa da fare perciò facciamo questa insieme e poi udite udite facciamo un paio di giri sul banner di radish che è uscito questo radish vediamo com'è io neanche so se è buono o no fatemelo sapere nei commenti però sono un collector perciò lo voglio nel mio team e soprattutto in questo banner ci sono dei personaggi molto interessanti che io ancora non ho quello che mi interessa di più signori è gogetta super saiyan 4 che non ce l'ho ancora questo nappa non ce l'ho trunks questo qui mi pare che non ce l'ho gohan non ce l'ho assolutamente questo gogetta mi interessa quasi più di radish devo dire comunque direi di andare subito con la nostra da 77 e vediamo chi cavolo ci da questi 3 lr ho visto anche gente ricevere altri lr oltre ai 3 garantiti perciò speriamo che succeda anche a noi direi di andare subito vamos aspettavo da una settimana di farla vediamo chi riceviamo fatemi sapere voi chi avete ricevuto se avete ricevuto degli lr buoni vediamo l'animazione 3 lr garantiti sarà vegetto blu no ovviamente ma qui può uscire un zeno subito un ssr bella medda però va bene un ssr non ci sputiamo sopra andiamo avanti intanto appunto come detto ragazzi fatemi sapere gli lr che avete trovato voi per capire un attimo se si può trovare anche roba buona lr forti o solo i soliti eccessi dei primi anni che però alcuni sono buoni sono ancora buoni devo dire radish si dopo veniamo a prenderti vediamo un po' finora un ssr ok secondo ssr e mi pare che non ce l'ho neanche questo freeze a terza forma vedo un attimo la leader skill sworn enemies penso che questo non è male credo non lo so però non ce l'avevo è super buono ricevere pg che non hai riempiamo il box mercenari tau mi serviva ne ho solo 100 101 adesso vediamo ragazzi vediamo oh planet namek saga categorie t più 2 questi sono tutti leader leader di categorie mi pare anche questo junior non ce l'ho fighting in one's homeland bella bel disegno non male tutta gente del della saga di namek due junior ssr abbiamo trovato intanto attenzione bulla tagoma schifo schifo comunque 4 ssr ho visto gente 5 ssr ho visto gente ricevere tipo 2 ssr e gli ultimi 3 garantiti e basta perciò non ce l'aventiamo giro bye frusto vediamo vediamo se ce ne capitano altri devo dire oh lo portiamo ad ability 1 va bene va bene tanto ragazzi lo so lo so tanti di voi vorrebbero che pullassi ancora nel banner dei dei super saiyan god o dei super saiyan 4 perchè sono veramente ottimi e meritano meritano dovrei spendere le mie gemme su di loro però vediamo come va vediamo come va le prime multi su radish se trovo subito magari lui non ho detto col culo che ho di recente ho trovato 3 starossa sui 7 piccati capitali potrei anche trovare subito radish e gogeta e sbolognare il banner in quel caso andiamo a farne ancora un paio sui super saiyan god che ho solo una copia di loro mi pare non sarebbe male trovarli ancora why not why not oddio lo schifo qua è da un po' che non ricevevo un ssr attenzione devo fare attenzione che magari adesso arrivano gli lr ok questo sicuramente non è un lr però un altro ssr va bene vegeta sei sempre bellissimo vediamo vediamo sono curioso non mi ricordo se nel global c'è già goku super saiyan god e hit quella carta lr con loro due insieme se avete voglia scrivete sotto se voi sapete perché ogni volta mi correggete nelle cazzate che dico perciò se c'è qualcuno che lo sa trovare loro due non sarebbe male perché se non ricordo male è un'ottima carta ahhh bene non ce li avevo bene e le animazioni di questa carta qui sono uno spettacolo sono bellissime ok prossimo anche loro non ce li ho raga si vola ora non so se loro sono buoni validi però va bene non ce li avevo sono contento ultimo lr signori sono impassibile perché non so neanche lui se è buono sono rimasto indietro col doc non ho seguito tanto fatemi sapere voi fatemi sapere voi avete visto gli lr che abbiamo trovato fatemi sapere se trunks gohan e questo tarles è buono non lo so è leader di cosa sto cazzo un attimo che guardo la leader skill disegno figo comunque terrifying conquerors non lo so non lo so comunque tre lr che non avevo si riempie il box va benissimo così mettiamo un attimo nei preferiti i nuovi personaggi perché mi pare che questo ok perfetto avevo ragione questo non ce l'avevo junior anche perfetto avrò un po' di gente da allenare freezer questo ce l'ho mi pare si io ce l'ho mi ricordo e poi sti tre ragazzoni esatto raga tre personaggi che non avevo sti cazzi io sono contento ok i ticket sono andati io direi di fare fuori i ticket che abbiamo ancora abbiamo ancora dei ticket qui dodici qui anche sono gli stessi in pratica io direi di provare a ritrovare di nuovo loro andiamo e dopo andiamo un po' di radish vediamo dai 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 madonna bills e vegeta dammi qualcosa i ticket comunque sono ogni tanto sono mostruosi se non mi sbaglio ho trovato il super saiyan 4 con i ticket io ho visto anche gente pullare con con una singola con i ticket ve l'ho detto raga sei fuori di testa lr freezer va benissimo freezer full power sputtaci sopra va bene va bene ci mancherebbe altro ok raga io direi di andare col banner di radish vediamo come vediamo cosa succede si su loro due non ho fatto non ho fatto molti perché ho guardato un po' di opinioni esterne a quanto pare non è un banner che merita così tanto da spenderci gemme sopra perciò ho lasciato perdere però qui sto 25 mi attira un po' perciò andiamo proviamo vediamo cosa succede gogetta vieni a me abbiamo nessuno che fa coppia mi pare però scritto arcobaleno vediamo ragazzuoli intanto fatemi sapere se voi avete speso gemme su questo banner e se avete trovato chi volevate se l'avete trovato minchia ma certo grazie porca misera perfetto era uno di quelli che volevo va bene a parte che li volevo tutti però vabbè aspetta questo guone heavenly events madonna quanti ne ha messi questo c'ha 140 già in questa versione di potenziamento porca puttana vabbè andiamo proviamo ancora andiamo fino a 500 vediamo cosa succede gotegnanco piccolo ma che cazzo è finito il culo raga è finito il culo tanto ssr ormai si sa il super sa ti dà un ssr oltre a quello garantito questo non capisco non lo so perchè mi sembra che a ogni multi comunque uno è garantito adesso lo vedremo un ssr ah boh comunque questa era quella da 7 ancora una raga ancora una tensing e rif tensing e rif tensing e rif tra l'altro andate a vedere la mia reaction all'animazione di tensing che uscirà sul jump tensing e rif ragazzi dovrebbe uscire qualcosa per logica no vabbè va bene 3 multi 2 con va bene dai non ci lamentiamo però potevo trovarne un altro no no non potevo io devo trovare lo stesso due volte vabbè ce ne sono 5 dunque io devo trovare lo stesso allora ragazzuoli io direi andiamo fino addio mio però sono gemme è faticoso farmarle in sto gioco proviamo a fare l'ultima e poi ne facciamo una qua e la chiudiamo così andiamo e restiamo a 400 gemme che mi servono perché a quanto pare sono stati liccati i personaggi ah minchia pensavo blu vabbè va bene give it to me comunque stavo dicendo sono stati liccati i personaggi del KK che saranno in teoria Goku Super Saiyan LR del film di Cooler e Cooler LR vediamo vediamo comunque sono sono gasato per Cooler perché Cooler è un bel personaggio a parte che la community era da un po' che chiedeva un Cooler LR mi pare parca puttana se quel give it to me era Junior mi sparo dammi qualcun altro chi è? era Junior ne ho 5 ne ho 5 raga lo porto full ability questo vabbè va benissimo devo ancora devo ancora evolverlo niente raga l'ultima summon sui Monke e poi se abbiamo abbastanza ticket facciamo un'ultima multi e non sui Monke sui Super Saiyan God perché mi piacciono di più lo so lo so sono gusti sono gusti raga ultima comunque raga per essere poche multi non male le animazioni che sono uscite vegeto basta solo vegeto però tensing e riff ci sto qui una beneata minchia a meno che non esca un fake out penso credo questi junior ci stanno però c18 sei una bella tusa ma non mi serve adesso mi spiace vuoi vedere ok sono indeciso ragazzi cosa facciamo andiamo a prendere i ticket intanto se ne abbiamo qui abbiamo i coin ah non mi ha dato i ticket ah non ti da più i ticket dopo un po' ah non ci da più i ticket ok non ci da più i ticket maledetti ah si ci sono goku e hit me che sono il primo personaggio che si vede che idiota che sono niente ragazzi andiamo avanti di singole su questi ticket 4 singole e poi chiudiamo il video datemi la vostra energia sono singole ma può uscire qualcosa lo sappiamo con gnamco sicuramente no però non si sa mai mai frenare i dei del culo del Dokkan ragazzi se volete fare una summon insieme a me tirate fuori i telefoni che ne facciamo uno insieme mi raccomando stoppate il video adesso perché io parto stoppate il video e tirate fuori il Dokkan perché andiamo pronti la facciamo insieme troviamo tutti li troviamo tutti vai raga al mio 3 lasciamo uno due tre vediamo 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 fatemi sapere ragazzi chi avete trovato in questa mega multisamon mondiale stile Genkidama io ho un recum scagazzato però attenzione vedete Krillin attenzione non potevo uscire prima nella summon mondiale va bene va bene non posso non posso lamentarmi non posso lamentarmi un LR in una singola e ne ho due devo mi pare che mi arriva ad ability 3 forse ma tanta roba l'ultima ragazzi l'ultima l'ultima dai Wiss quando esce Wiss ho sempre un colpo al cuore speravo speravo che tornassi indietro vabbè niente ragazzi questo è quanto niente radish comunque più di più di quelle 150 gemme che ho speso sul banner di radish non voglio spendere sinceramente ce la cilliamo stiamo tranquilli aspettiamo il kk aspettiamo aspettiamo dei personaggi dove vada la pena di pullare ragazzi grazie di essere stati con me se siete arrivati fino a questo punto del video scrivete radish è un cesso e ci vediamo al prossimo video ciao raga ciao